Non è stato uno spettacolo, è stato più di uno spettacolo, una rappresentazione che ha mosso i sentimenti, ricreato delle emozioni e fatto capire l'eccezionalità di cosa ha vissuto Fano il 12 agosto del 1984. Dopo la frequentatissima messa del mattino, lunedì scorso in serata oltre 700 persone hanno assistito alla commemorazione organizzata per il comune da Marco Ferri e Luciano Cecchini del giorno in cui Papa Wojtyla venne a Fano, nello stesso luogo in cui il pontefice parlò alla folla. Oggi il luogo è profondamente cambiato, allora non c'era nell'anfiteatro Rastat né la platea che l'ha sostituito. Era stato costruito un lungo pontone in legno che si inoltrava sul mare e da lì il Papa benedisse oltre 50.000 persone. Toccanti sono state le testimonianze di Carlino Bertini, Renzo Rovinelli, Gianfranco Ghiandoni, capitano del Cigalin e Paolo Bragania che lesse una poesia davanti a Papa Giovanni Paolo II. La serata si è poi conclusa con un concerto di Patrizia Urciani. In prima fila il vescovo Andrea Andreozzi, il sindaco Luca Serfilippi, la giunta tra cui l'assessore agli eventi Alberto Santorelli. Oggi è stata una serata molto emozionante, una giornata molto emozionante che è partita praticamente all'alba. Questo è un evento che la città si sente e diciamo che è l'evento più raccontato, più tramandato nella nostra città. Anche chi era molto piccolo come me o anche chi non era ancora nato nei ricordi dei genitori, dei parenti, degli amici ha potuto cogliere veramente la grandezza di quell'evento ma soprattutto la grandezza di un Papa che è venuto ad abbracciare i nostri pescatori, il nostro mare, la nostra città e che quindi merita di essere ricordato. Quindi questa città l'ha fatto nei quarant'anni, siamo contenti di averlo fatto noi. Carlino Berdini, tu stasera ci hai fatto una sorpresa. Ci hai presentato un reperto storico ma anche di un valore spirituale importante. Che cosa? La seggiola dove sua santità si è seduto per consumare la cena con i pescatori e quella l'abbiamo conservata per 40 anni, pensate un po'. È un reperto storico di quella memorabile giornata, però quello che è più sacro sono ricordi che tu riporti nel cuore immagino. Sì, è una bella, indubbiamente è stato un bel incontro, una bella serata, anche se non avevo tempo per emozionarmi o per fare, capito? Quindi è stata una cosa bellissima, specialmente in mare. Ecco, nel documentario che abbiamo visto, abbiamo visto te che parlavi con il Papa a lungo, mano nella mano. Ma che cose vi siete detti? Dunque, intanto ho cominciato a ricordare un certo Luigi Giocondo, che ventottenne battellante l'hanno ritrovato nella spiaggia di Senigallia, morto. I morti dell'Anna, i morti dell'Emanuela Antonella, i morti del Boro, tutti morti, sia civili che militari, marinai. Poi, quando siamo passati sotto la fregata, è stato un qualcosa di bellissimo. Al di là del saluto ufficiale, i marinai schierati alla banda, per tre volte hanno gridato l'urrà, buttando in alto i berretti. Pensate, al tramonto, questa scena straordinaria. Quando tu hai lanciato l'idea che il Papa potesse venire a Fano, hai fatto una provocazione o ci credevi veramente? Beh, eravamo a passeggio con Mici e una persona che tu conosci bene, abbiamo lanciato l'idea che è perché non facciamo venire il Papa Fano. Mici ha avuto lo stesso sussulto di Gustavo Mazzoni. Tutti e due, roba da matti, però si è realizzato, ma questo grazie ai tanti amici che avevamo in Vaticano. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.